ok ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora sono a casa con i miei che dormono quindi forse parli un po' meno bassa voce ostra tirato giù la tapparella e ho spento anche tutte quante le luci e messa a posto le cuffie quindi tutto quanto dovrà andare bene allora io qual è stato l'ultimo salvataggio che ho fatto questo qui da un minuto e 23 ok vediamo di seguire un ordine tecnologico la freccetta la tolgo tranquilli ed eccoci qua quindi diceva non dobbiamo dormire e noi non dormiremo quindi andiamo giù ok vi ricordo che stiamo camminando per poter evitare di addormentarci in modo da non dormire non attirare il mostro qui stain non ho ancora capito cos'è ok si ragazzi ho deciso lo sto facendo anche se mi dormono proprio perché si è fermata ah no perché mi sono reso conto che era un po' indietro e anche perché devo ottimizzare un po' il tempo perché di sera sono ripetizioni di mattina sono recuperi quindi ho un po' di roba da fare questo gioco qua ti spingio poi che seggio perché non ti dice cosa fare ti dice sta buono qua cazzo di niente ok ragazzi proprio non forse so dove andare forse so dove andare allora andiamo per di qua a destra ed vediamo se in giardino c'è qualcosa mi ricordo che c'era una parte nel post ragazzi no ma non è ora non è ora d'azione sì ma dai però ok quindi controlliamo il ficus non mi fido del ficus niente poi una pianta di cui potrebbe anche essere finita proprio capito e dai e che palle diamo qua a sinistra bloccata bloccata qui mi ricordo c'erano i vestiti si eh sì ma cosa devo fare cioè a parte cazzeggiare c'è qualcosa da fare ok sono tornato qua è vuoto un calendario niente una dai dove dove andare questa porta qui mi puzza perché niente qua su stacco la registrazione e continuo dopo mi sa ok finché non trovo qualcosa da fare ok ho tipo ho staccato la registrazione nel momento stesso che è partita la musica proprio fiero io dovevo andare a destra no perché io andavo a sinistra no no dovevi andare a destra perché i comunisti fanno schifo o vai a destra altrimenti la musica non parte stai fermo là carina la musica ho sentito il piano ma cos'è stato no 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 cioè non può essersi suonato da solo oh mio dio cosa succede ah non posso muovermi qualcosa ha preso le mie gambe ah che cazzo non mi dire chi viene ah sì merda c'è il mostro sotto di noi qui sta gridando porca broia no va via stami lontano fottiti e si incastra nel divano va il dracona fottiti madonna non ho neanche salvato dio buonissimo ovviamente tanto non mica roba che devo fare è questa qui load 1 minuto e 23 ok destra ok 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 quindi ci mettiamo qui sì 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 ora sappiamo già che succede sì scottiti 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 ah no questo cavolo che mi prendi stavolta cazzo madonna mia era vicino eh qui non c'è nulla in cui ripararsi qui dentro il posto posso nascondermi nel posto beh nel posto nel cammino sta registrando vero sì ok ok è difficile averlo beccato con un colpo eh infatti oh cristo devo andare da qualche altra parte ok via 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 guarda ci sta attaccato il culo ci sta attaccato il culetto qui mi piace questa stanza qui non c'è una sega in cui nascondersi qui via via non c'è una sega neanche in cui nascondersi qui via via qua sotto qua sotto qua sotto no via qui dentro qui dentro qui nei cassetti oh guarda ci sta attaccato il nuovo su 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 porca troia porca piano di sopra piano di sopra subito via 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 corri mici corri 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 cazzo in bagno quanto ah no non è il bagno no 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 oh mio dio ragazzi mister l pro gamer cosa dentro dentro questi armali muri vai 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 ok ok madonna ragazzi l'ansia stai già gridando se non ci fossero i miei dirà anzi che se le prego posso guidare quanto voglio porca troia via 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 ok laggiù che c'è fa che si apra merda mi devo nascondere a qualche parte sono fottuto cazzo merda non ho mai fatto questi versi oh mio dio è stra disturbante devo merda se vado fotti cazzo fa qui verso mio dio mi ha traumatizzato ma che roba non li ha mai fatti non mi sono mai ricordati io mi posto si reset ogni volta quindi potrebbe anche essere questo adesso no non è questo ma davvero ma ti credi più furbo di me aha merda bene qui dentro mi sta traumatizzando ragazzi non si arrende via 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 corri corri ok 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 posso farcela posso farcela piano di sopra no piano di sopra no piano di sotto no piano di sotto dov'è no no nel bagno no nel bagno nel bagno qui dentro riproviamo nel camino riproviamo nel camino perché altri posti ho il bagno il bagno posso provare sto prendendo la mano quel bastadino niente non si arrende è un bastardo cazzuto questo qua e destra il bagno non so perché ma mi ispira particolarmente qui dentro qui dentro vai così ok dio buono no ci ho creduto per un attimo no 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 dio buono cazzarola eh stavolta qui non mi sta andando bene però cioè eh si mi sto grattando le orecchie le tempie meglio fottiti c'è anche le cuffie che mi danno fastidio ora ok ok ora mister L è incazzato mister L vuole prendere a calcio in culo il mostro merda le cuffie mi danno fastidio ora muoviti 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 prima lei diventa magra sono di correre no 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 avete visto è passato sopra il divano quello lì è un cheater non puoi passare sul divano cheater 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 vaffanculo ok ora mister L è ancora più incazzato il compenso questa musica è molto bella quindi potete dire che è grazie a me se la potete godere così tanto perché muoio ogni volta ok e se mi metto un po' più a destra no niente da andare qua ok corri 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 ok guardate ma non non può fare quella roba lì non può farlo non mi taglia la strada e corre veloce quanto a me io non posso riuscirci ma che cazzo vaffanculo madonna mia ultima e poi altrimenti taglio fino a che non riesco a uscire da questa stanza fottuta sì sì mi sto usurando la barra spazzatrice sì sì shake 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 bene ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta incredibile ok il bagno mi ispira ragazzi il bagno mi ispira bene ok ah mi ha già fatto sperare bastardo di merda no ok posso provare a nascondermi qui dentro no 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 pensavo di poterci riuscire ma non ci sono riuscito qui sotto qui sotto che c'era qui sotto che c'era eh no nell'urna non penso che ci entri la sinistra ah io non sono neanche il buio più completo ragazzi ah va là fotti in giardino non si deve andare state neanche qui lì che non di sopra qui dentro nella camera d'arte qui questo armadio qua mi ispira bene uff no 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 ok fottiti fuck you bitch vaffanculo è bloccata vaffanculo 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 che di sopra non c'era via d'uscita vaffanculo vaffanculo stravaffanculo ahhh un attimo che vado in esplorazione ragazzi un secondo qui c'è una armada qui nascondersi, si c'è sto qua, ok, erano andati in panico lì perché non sapevo dove andare, sopra sotto, sopra sotto, qui parlerò un po' meno, magari c'entra con interesse la mia barra spassatrice chiede pietà, oh, cosa? no, fottiti, bastardo, indovinate un po', spazio, 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 tipo, è come il combattimento con tutorial, la devi spammare, si, qua devi spammare, spazio, vaffanculo, ok, forse non devo correre via come un serbiato, ma a me si, devo, a tirarlo un po', a tirarlo così, fare così, ok, ok, mi starai del tattico, su, 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 bene, mi ci fa sperare ogni volta perché mi aspetto che arrivi prima, facchio, fottiti, uh, qui dentro, no, quanto son fottuto, ora io mi butto dentro ogni buco finché non riesco a seminarlo sto qua, ah, ma va là, ma va là, ma va là, dio caro, no, no, non mi direi che ho cliccato su New Game, se ho cliccato su New Game ti rompo, interrompo qua finché non ci riesco ragazzi, ok, ragazzi, allora, era tipo, non so quante volte che mi stai seguendo quel mostro, tipo, sto riuscendo, sto riuscendo anche a fuggirli per dieci minuti, ma io non trovo il punto in cui devo nascondermi, cioè, guardate adesso che drift che gli faccio in mezzo ai, in mezzo ai piatti, cioè, guardate che roba, proprio, è ovvio che la lunga mi prende, cioè, guardate, cioè, guardate, shake off, shake off, si arriva, ora arriva ingazzato, sì, 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 volevi, eh, volevi, ora si va per di qua, qua su, per di qua, io provo sempre nella stanza del cammino e qua davanti, ah, ah, merda, ho già perso tempo, ok, bene, ci sono riuscito bene, ora c'è Michi Takamura che ansima, che succede? Ma voilà, arriva il mostro, pensavo arrivasse Babbo Natale, quasi, ah, madonna mia, qua su, il bagno, come ha detto, mi piace molto, qui dentro, ok, Michi Takamura che ansima, ah, ma voilà, non, non è qui che devo nascondermi, ok, vogliamo andare per di qui, qui dentro, merda, sono fottuto, perché è difficile scapparli da qua, cazzo se è difficile ragazzi, un attimo qua, devo vedere riflessi fottuti, ok, 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 qui dentro, ok, armadio a muro, qui dentro, vediamo se va bene questa zona qua, intanto mi sto grattando il braccio sul tavolo, ho sempre la mano destra sulle freccette, no, non va bene per di qua, negativo, cambiamo, la zona, andiamo su allora, nel bagno, no, 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 mio Dio quanto rischiato da, ok, riproviamo se magari è di nuovo nel bagno, ok, mi sono grattato un attimo il naso, ok, no, non è di nuovo nel bagno, ok, quindi qua, vaffanculo, nella porta a sinistra non c'è niente ragazzi, non ci sono nascondiglio, ok, dobbiamo essere magari in camera mia, ok, nascondiamoci qui dentro, il letto non mi sembra fosse un nascondiglio ragazzi, negativo, 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 ok, andiamo a sinistra, dobbiamo andare qui dentro, vaffanculo, è bloccata, vaffanculo, ok, quindi, stanza qua dentro, ok, bene, vediamo se qua, ormai non mi fa più paura, ci sono abituato a farmi seguire, vaffanculo, 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 ok, no, forse ho trovato un'altra porta ragazzi, qui dentro forse, è l'unica, è l'unica che non ho provato in tutto il gioco, niente, perché, niente, niente, niente ragazzi, perché, alcune po', se prendi quella sbagliata ti ammazza sul colpo, vaffanculo, non mi arrendo, ci riprovo, vai, il fastidio ragazzi, il fastidio, il fastidio, sapete dove mi, provo a nascondermi ora, nel pozzo, ciò significherà mia morte, ma, anzi, guardate, provo, sotto al letto e nel pozzo, guardate, sotto al letto, sotto al pozzo e nel piano, che ho ormai imparato a seminarlo, ok, bene, ora, provo sotto al letto, su, su, per di qua, no, sotto al letto, non, magari è qua, magari, no, mi ammazza anche sotto al letto, ok, quindi, io non ho capito che sono casuali che ogni volta si cambiano, oppure solo, ok, ok, proviamoci allora, andiamo nel pozzo, no, sotto al piano voglio provare, allora, ok, quindi, in soggiorno, forse ci sono dei cassetti, no, ma lei non può nascondersi nei cassetti, merda, impostazioni di autologo non aggiornate, frega, un cazzo, ok, no, va via, stammi lontano, no, no, ho sbagliato cliccare, sbagliato cliccare, ok, nella cassaforte, ragazzi, no, ho sbagliato bene il tempismo, sono tornato dentro subito, cassaforte, non posso nascondermi nella cassaforte, riprovo nel cammino per vedere se è casuale, ma, ok, negativo, ora riprovo sotto al piano, non ci si può nascondere sotto al piano, fottuto, ok, quindi, esperimento per il sociale fatto per voi, quindi, ora, riprovo, si, 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 ok, fermare la mano se non mi stare così, vaffanculo, mostro di merda, ma ciao, ci stiamo guardando, no, sono, computer di merda del mio, cioè le freccette che sono più o meno, le freccette per andare su e giù, sono la metà di quelle a destra e a sinistra, tutto per ottimizzare il spazio, quindi, per sbaglio, premuto anche quella sopra, va, quella sotto lì, cos'è, vaffancio, ho anche la mano che mi sta andando a puttane, vaffanculo, sapete cosa voglio provare ora? mhm, che mi è venuta su un'idea, bene, ora ci fermi qua, ok, quassù, 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 ok, quindi, ora intanto per non sorbrirmi, no, come, ho premuto, no, non ho premuto esci, ma ho premuto il punto, vaffanculo, mi ha scamato, mi sa, ho premuto il punto esclamativo, ho premuto il punto esclamativo, mi è venuta fuori, mi ci sono aperte pace su internet, ok, 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 vaffanculo, mondo merda, ci riprovo, ci riprovo, sono determinato ragazzi, non, questa volta, non morirò, si, 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 aiuto, sono così stufo, ok, punto esclamativo, esci, esci, ok, diario, ok, ok, come avevate visto, nella stanza di sopra, dov'era, in questa, stanza qui, era questa qui, giusto, ok, farà uno strano rumore ora, esatto, e perché fa questo strano rumore? Posso nascondermi anche qua, al laterale, ma non serve che ci fa nascondere, bastardo di merda, ok, ci riprovo, ma non mi fa nascondere, avete visto anche voi? niente, ci riprovo, ok, bene, vediamo se ha funzionato, stavolta, una volta buona, si, 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 quanto godo, quanto cazzo godo, io volevo vedere che, se mi nascondevo nell'armadio, morivo di nuovo, ciò significava che, ciò significava che i punti non vanno a risetarsi ogni volta che cambia nascondiglio, ma solo ogni volta che si trova in una fase del gioco, quindi, mattina, mi hai fatto sudare i mici, fottiti, magari non stanno neanche registrando, no, ok, stanno andando, basta, non posso resistere così, quella cosa, la mano di quella cosa, me la sento ancora nella mia gamba, grosso, sporco, sporca, non, chiamerò mamma e andrò, e tornerò a casa, non posso, resta, riposare, non posso riposare in questo posto, cioè, non posso stare in questo posto, salva, 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 vai così, vai, ah, aspettate un attimo, ok, ok, quindi, vedrò ricaricarne subito un altro, questo episodio ragazzi, oh zio, quanto mi ha fatto sudare, vabbè, mi interrompo qua, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti,